Sigla! Pregartelo sotto il naso? Quindi, ora puoi solo introdurti nel suo laboratorio trovare il raggio restringente! Un momento, muso! Credi che lascerò che Gru e i suoi cosetti gialli entrino nella fortezza di Vector Tudine e rubino il mio raggio restringente? Oh, sarebbe carino da parte tua! Scordatelo! I sistemi di difesa sono al massimo della loro capacità Vector Tudinale, la quale, se non te ne fossi accorto, è parecchio buona. Quindi, se Gru torna a ficcanasare dovrà guardare bene dove mette i piedi? Oh, sì! Oh, sì! Oh, no! Lo hai sentito, Gru! Questa è probabilmente l'impresa più difficile! Oh, la vita da criminale! Questa è una macchina! Questa è una macchina! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Forse, potrei ordinare a uno degli stagnozzi di assumere il comando! Grazie a tutti. 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 a tutti.